Ragazzi è già tutto calcolato, ora vi spiego perché. Dopo la skillirove, la ricordate, ora c'è vannacci, vannacci, mannaggia, parla il comandante vannacci, è tutto calcolato. Primo vi dico, questo aveva scritto un libro, e come mai ha scritto un libro, un generale, ok, della Folgore va a scrivere un libro? E chi è? È un personaggio pubblico, è un politico, no? Un generale della Folgore dovrebbe fare il generale della Folgore e difendere gli interessi d'Italia, non scrivere un libro. Perché scrivere un libro? Perché poi entrerà in politica. E da che parte? Si sa già. Guardate, guardate da chi va, da Radio Radio, i gatekeeper per eccellenza, 43.300 iscritti, parla il comandante vannacci, e chi lo fa? Quel lecchino lì, quel lecchino di Berlusconi, lo mettono, e questi sarebbero la controinformazione, e voi ci credete? Questo ha scritto un libro, hanno creato la polemica d'arte, ed era già pronto ad andare a parlare a Radio Radio, e voi ci credete? Buffoni!